Truffe per un milione e mezzo di euro grazie ad una rete di società fittizie, questo è emerso dall'operazione della Guardia di Finanza di Padova, coordinata dalla Procura della Repubblica di Rovigo. È una nuova tranche dell'indagine Zona Rossa, operazione dei finanzieri di Padova, che lo scorso settembre aveva colpito dei truffatori, che sarebbero collegati al clan Mazzei di Cosa Nostra, che approfittando del lockdown e delle zone rosse, acquistavano prodotti di vario genere, dall'agroalimentare ai prodotti di elettronica, senza però pagarli. L'indagine è dunque continuata perché, nonostante il leader di questo gruppo criminale fosse agli arresti domiciliari, le truffe non si sono fermate. Abbiamo riscontrato la ritirazione di condotte truffaldine che erano state già evidenziate nell'occasione della prima esecuzione dell'ordinanza del settembre del 2021, il che ha consentito al GIP di Rovigo di emettere un'ulteriore ordinanza che poi ha sostanzialmente disposto gli arresti domiciliari per il rappresentante legale di un centro di elaborazione dei dati che aiutava l'organizzazione a predisporre bilanci o verbali di assemblee e di ulteriori due buyer che erano utilizzati dall'organizzazione per perpetrare le truffe. 64 le truffe messe in atto dal gruppo, ad anno di aziende dislocate in tutto il territorio nazionale. Dopo la prima indagine il gruppo aveva spostato la sede operativa dalla provincia di Padova all'Interland Bresciano, non erano però cambiati i metodi di truffa. Ai venditori venivano infatti presentate credenziali alterate che li facevano risultare buoni pagatori. Ricevuta la merce però di pagare non ci pensavano nemmeno, il materiale veniva poi rivenduto fuori dagli ordinari circuiti commerciali. Complessivamente queste truffe hanno un controvalore di oltre 3,7 milioni di euro. Anche il presidente della regione, Luca Zaia, ha voluto complimentarsi con gli uomini delle fiamme gialle di Padova. Ma come fare ad individuare questi truffatori? Il modo per difendersi è cercare di essere cauti soprattutto nei rapporti commerciali, soprattutto in occasione di rapporti commerciali con nuovi clienti che in questo caso erano ben organizzati perché presentavano dei bilanci floridi e dimostravano anche di possedere da un punto di vista contabile un solido capitale sociale.